Tra qualche ora sarà il momento di votare per le provinciali, ma già guardando alla primavera il centro-sinistra si presenterà unito. Ecco, c'è stato un tavolo proprio per parlare di questi aspetti fra voi nelle ultime ore, ha partecipato anche il consigliere regionale Di Gregorio. Secondo lei è un'unità che proviene da una necessità oppure si potrà replicare, si potrà conservare anche nei prossimi mesi? Beh, la coesione è sempre una cosa importante, andare uniti è anche importante per poter vincere. Chiedo che ci siano tutte le condizioni di poter replicare il modello provinciale che si avrà domani qui in provincia di Tardo, anche per il comune di Tardo. Fermo restando, che sia chiaro per tutto, chi si è messo fuori e firmando la cacciata del sindaco Rinaldo Melucci è fuori dal nostro perimetro di intervento. Quindi il vecchio e classico centro-sinistra con le liste civiche che ci vorranno stare e che ci sono al netto di quelli che si sono porsi fuori. Ecco, al di là dei nomi e delle sigle di Gregorio, lei è una lunga esperienza politica. Come si presenta oggi questo centro-sinistra e Tarantino? Con quali caratteristiche? Perché è mutato evidentemente, non solo negli ultimi anni ma anche negli ultimi mesi. Che priorità ha, che volto ha in qualche modo? Beh, innanzitutto è cresciuto perché ha fatto esperienze di governo importanti. Ormai siamo al governo della città da oltre 14 anni perché ci sono state due consigliature, Stefano e quella ultima di Rinaldo Melucci. C'è una consapevolezza della forza di governo che abbiamo e quindi pensiamo a una città diversa, una città che metta la bellezza e la cultura e tutti i suoi posti bellissimi prima di tutto. Grazie a tutti.